Ciao Deborah Non mi dici niente? Non so cosa si dice dopo... dopo più di trent'anni Beh, diciamo... come stai, ti trovo bene o speravo di non vederti più? Non pensavo di rivederti E' diverso E' già molto semmai riconosciuto Gli attori hanno buona memoria Vuoi bere qualcosa? No Io si Margot? Si signorina? Puoi andare, non c'è altro per ora Bene, signorina Ha detto signorina Non ti sei mai sposata? No Vivi sola? No Da dove vieni? Vengo da fuori Quando sei arrivato? Da un po' io di giorni Ti trattieni Eh, dipende Perché hai voluto vedermi? Due ragioni Prima per vedere se era giusto che tu rinunciassi a me per il teatro E allora? Era giusto Sei bravissima L'età non puoi invecchiarla Sembra scritta apposta per te E l'altra ragione? L'altra ragione è se accettare o no di andare a una festa domani sera Una festa? Eh, a Long Island Da un certo senatore Bailey Conosci il senatore Bailey? No E l'altra ragione E l'altra ragione